congresso fee only 2016 le prime impressioni dopo questo inizio di tavolata è importante vedere crescere sempre di più non solo il numero dei partecipanti dei consulenti dipendenti ma anche l'attenzione che questo mondo mette alle all'evoluzione del mercato finanziario e all'innovazione che c'è in termini nuovi prodotti nuove soluzioni per i clienti dunque sicuramente un'impressione positiva il trend è sempre in crescita e ci piace essere qui anche per essere stimolati dai consulenti a trovare nuove soluzioni per loro ecco il consulente indipendente una figura che ormai è una realtà che cosa offrite voi come società a questa figura professionale noi offriamo una serie di prodotti che sono gli etf che vengono sempre più utilizzati non solo dai dagli investitori istituzionali ma anche dai consulenti per una gestione efficiente del portafoglio per ragioni di costi contenuti per ragioni di trasparenza per ragioni di efficienza però cerchiamo anche di fornire dei servizi 360 gradi accanto ai prodotti forniamo servizi di reporting di ricerca di supporto nella ricerca di nuove soluzioni di investimento dunque siamo partiti come un provider di prodotti oggi ci riteniamo un provider di prodotti di ricerca e di soluzioni di investimento per i prossimi anni futuro breve termine che cosa avete in programma su cosa vi orienterete continuiamo a innovare in termini di gamma di prodotti continuiamo a lanciare i prodotti obbligazionari con nuove esposizioni abbiamo avuto molto successo con i corpore americani a cambio coperto stiamo avendo successo con il nuovo indice sugli emerging market bond continuiamo a coprire nuove esposizioni con la copertura di rischio cambio e giatto euro i momenti di volatilità sui mercati come questi sono strumenti fondamentali e innoviamo anche su quello che è un nuovo mondo del factor alternative vita con nuove soluzioni di investimento quali low volatility che permettono una gestione in momenti di volatilità come questi più efficiente